Sì, è arrivato il momento, oggi capisco che posso tirare? Stato con noi o con tre noi? E allora già sapete che c'è da fare? Gli altri! Sì, sono arrivato il momento! Così avessi domani? Sono arrivato il momento che ci sono e che ci sono? È un po' di più. È stato un po' di più. È un po' di più? È un po' di più che, è stato pronto. Il raggio è destrato buono, penso che qualcosa è servito, no? Penso proprio che sì. E' deciso, insomma. Allora chi? Tipo la tua nostra vita. Che meglio la nostra vita? Non ci sono passi. Allora, non è solo passi. Non mi ricordi così, e la nostra vita è in zucchero. Non ci sono accettative, non si è girato. E la cosa è che è la tua vita è la tua vita? Quante? 20 centesimi Dimmi che dici Caccia a fare A posto O dimmi Grazie Grazie Questa è un'altra Iscriviti al canale C'è un'altra Cosa c'è un'altra Cosa Ha avuto La Chiaria La Chiaria La Chiaria La Chiaria La Chiaria Grazie. 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 Grazie.